Un altro grande della musica se n'è andato. Dopo David Bowie anche Prince ci ha lasciati. Prince Roger Nelson aveva 57 anni ed è stato una vera icona della musica soprattutto negli anni 80. Indimenticabile autore di canzoni come Purple Rain, Kiss o Sign on the Times, Prince è stato famoso anche per le moltissime relazioni avute con donne bellissime e famose. Solo pochi giorni fa il cantante era stato ricoverato d'urgenza in Illinois dopo un atterraggio forzato del suo jet privato. Tuttavia il giorno dopo Prince era apparso sul palco ed aveva rassicurato i fans sulle sue condizioni di salute. La notizia della morte è stata data dal sito americano TMZ ed in brevissimo tempo è rimbalzato ovunque. Ancora non sono state accertate le cause della morte. Il corpo di Prince è stato ritrovato all'interno della residenza del cantante e non è stata specificata la causa del decesso. Sembra che al momento l'ufficio dello sceriffo della Contea stia indagando. Subito dopo il ricovero del 15 aprile scorso il suo agente aveva comunicato alla stampa che Prince soffriva solo di una brutta influenza. Invece poche ore fa la triste notizia che ha lasciato interdetti i fans.